Sono Giulia Pincerato, sono la palleggiatrice dell'Azimuth Giorgione. Ormai gioco a pallavolo da una vita e ho giocato in Serie A all'incirca 15-18 anni, quindi insomma è il mio lavoro e adesso sono qua. Ho cominciato a giocare a pallavolo da piccola, avevo 11 anni, ho fatto tutta la nazionale giovanile, quindi la pre-juniores, la juniores, abbiamo vinto un titolo europeo, abbiamo fatto un terzo posto in mondiali, dopodiché la mia carriera è continuata, ho fatto delle competizioni con la nazionale A, quindi giochi del Mediterraneo e ad Almeria che siamo arrivate terze, l'università di Belgrado abbiamo vinto, insomma delle presenze con la nazionale per le qualificazioni agli europei e dopo la mia carriera è continuata nei club, quindi ho girato tutta l'Italia, sono stata a Bolzano, a Perugia, a Modena, a Sassuolo, ho fatto un anno all'estero, a Bucharest, a Forlì, insomma tantissime squadre, tantissime società e alla fine sono tornata a casa mia, visto che sono di Padova e quindi mi sono fermata a Castelfranco. Ho avuto l'estate scorsa un'infiammazione a entrambi i tenini d'Achille che è diventata cronica ed è durata quattro mesi ed è sparita soltanto quando ho cominciato ad usare i dispositivi Teopatch e me ne è stato messo uno davanti sul petto e uno dietro, zona cervicale. All'inizio ero scettica, però comunque era una cosa che ho voluto provare e quindi avevo parlato con il dottore che mi ha fatto tutti i test e avevo chiesto ma in quanto tempo posso vedere dei risultati e mi ha detto beh anche in un'ora. A me è un po' stranito, ho detto ok, quello che è successo è sono tornata a casa, sono andata a letto, la mattina dopo mi sono svegliata e da quel momento non ho più avuto dolore e questa infiammazione, questa tensione probabilmente che si era creata ai tenini d'Achille e quindi da quel momento, che era settembre dell'anno scorso, non mi è mai più tornata. Poi altra cosa che è successa, ovviamente giocando a pallavolo, ho avuto un'infiammazione alla spalla perché ho preso una botta a muro facendo un contrasto, ho messo i dispositivi nella zona dove avevo dolore e anche questa infiammazione dopo due giorni mi è completamente sparita e quindi sono molto contenta, sono soddisfatta di questo prodotto e sicuramente mi fido e dunque quando adesso ho un problema, un'infiammazione, una contrattura, qualsiasi cosa io metto i dispositivi nella zona dolente e vedo che funzionano, perciò sono contentissima del risultato che ottengo. Raccomando i tau patch ad altri sportivi e comunque a qualsiasi persona, anche che non fa sport perché per quella che è stata la mia esperienza con me ha funzionato e ho risolto un problema molto fastidioso che avevo tutte le mattine quando facevo le scale a casa mia e quindi perché no consigliarlo anche agli altri se effettivamente è una cosa che funziona, che può far vivere meglio, che può aiutare, che può far stare meglio la gente le persone e gli sportivi. Per quanto riguarda gli sportivi lo consiglio perché possono avere un tempo di recupero più breve, quindi magari rientrare da un fastidio, da un infortunio, da una contrattura, da un'infiammazione in un tempo più breve per potersi allenare sempre e non stare fermi, magari una settimana, tre giorni e perdere degli allenamenti che poi vanno sicuramente ad influire sulla performance.